X-DOMUS X-DOMUS progetta e realizza la casa dei vostri sogni, dove voi la volete, con tempi e costi certi, annullando a monte le possibili complicazioni che sono fonte di ansia per chi si accinge a costruire. X-DOMUS è l'alternativa ideale alla casa in legno di tipo nordico. A parità di prestazioni, la casa X-DOMUS, a basso consumo energetico, bioclimatica, antisismica e certificata, esprime al meglio il gusto italiano. E' realizzata in calcestruzzo con un procedimento innovativo e brevettato, ad un costo molto competitivo. Valutare la proposta X-DOMUS è semplice e veloce. Scegliete tra le case a catalogo il modello che meglio interpreta i vostri desideri o portateci il vostro progetto. Personalizzatelo con la consulenza dei nostri architetti. Dimensioni, disposizione, finiture. Grazie al configuratore di ultima generazione, un'esclusiva X-DOMUS, la vostra casa prende vita sotto i vostri occhi, mentre il preventivo di spesa si aggiorna in tempo reale. Ogni particolare costruttivo, dai rivestimenti, agli infissi, ai sanitari. Potrete sceglierlo nel nostro showroom e verificare quanto influisca in termini di spesa. Solo così le decisioni sono serene. Il preventivo ora tiene conto di tutto ciò che avete deciso. Trasformandolo in un contratto, bloccate costi e tempi di esecuzione, calcolati dall'avvio del cantiere e vincolanti per X-DOMUS. Qui la frase chiave in mano è reale, non nasconde nessun sé e nessun ma. Qual è il cuore dell'efficienza X-DOMUS? La tecnoedilizia rivoluziona il metodo costruttivo dell'impresa tradizionale. Appena realizzate le fondazioni, sul cantiere giungono i moduli delle casseforme isolate, precisi al millimetro. La posa e l'armamento sono veloci. Il calcestruzzo profuso al loro interno garantisce resistenza all'umidità, elasticità, indeformabilità, solidità. Il doppio telaio in polistirolo espanso garantisce isolamento termico e acustico. Tutti i materiali con cui è realizzata la casa X-DOMUS sono riciclabili, resistenti al fuoco, certificati. Ogni casa X-DOMUS è amica della natura, perché è capace di risparmiare energia grazie ad un rapporto privilegiato con il sole, il vento e l'ombra. È bioclimatica, perché è progettata in modo che le funzioni dell'edificio e la bellezza dell'architettura non perdano mai di vista le persone che l'abiteranno, consentendo loro di spendere meno, risparmiando dal 40 all'80% dei costi annui di riscaldamento e di condizionamento rispetto ad una abitazione tradizionale. Se poi volete una guida per scegliere gli arredi, la progettazione degli interni delle case a catalogo è a vostra disposizione, sia come fonte di ispirazione, sia come rapporto commerciale con le aziende di mobili e accessori di tendenza rappresentate nei progetti. Architetto Mingozzi, dopo 15 anni di libera professione, quali vantaggi riconosce a X-DOMUS? Oggi si diffonde sempre più la consapevolezza che occorre pensare al benessere nostro, ma anche a quello dei nostri figli. I nostri tempi non possono più tollerare gli sprechi, le inefficienze e la disorganizzazione, che allungando i tempi e incrementando i costi hanno spesso dissuaso che si apprestava a costruire la propria casa. Coscienza ambientale, qualità della vita, tecnologia e innovazione sono le parole d'ordine che possono dare nuovi impulsi al settore e che sono scritte nel DNA di X-DOMUS. La qualità della progettazione, del processo produttivo e dell'organizzazione permettono di scegliere tra case energicamente efficienti, low energy, iperisolate o passive e di avere sempre un unico interlocutore dall'inizio alla fine. Filippo Contin, dal 2005, realizza con Ecosysm edifici ad alta efficienza energetica. Quali i punti di forza X-DOMUS? Al primo posto porrai sempre i costi e i tempi certi di edificazione. Subito dopo, la possibilità di abitare una casa non solo isolata termicamente, tema oggi molto attuale, ma anche acusticamente, a garanzia di un elevato comfort anche per chi vive circondato dai vicini e spesso dai loro rumori molesti. Tutto questo grazie al sistema costruttivo impiegato da X-DOMUS, basato sull'impiego del calcestruzzo come materiale portante racchiuso in un sistema a cassero formato dal materiale isolante. Questo permette di realizzare costruzioni antisismiche perché composte da strutture portanti legate tra loro in modo da costituire un monolite solido ma elastico, in grado di resistere agli eventi sismici. Nella casa X-DOMUS nessuna parete presenta punti di discontinuità e di fragilità facilmente attaccabili dagli eventi naturali. La solidità di una casa X-DOMUS quindi garantisce un elevato standard di sicurezza per la vita delle persone che vi abitano. Infine, una casa X-DOMUS vale nel tempo perché è al passo con i tempi e questo interessa a chi decide di costruire la propria casa. Ogni casa X-DOMUS è progettata e realizzata secondo principi di tecnoedilizia compatibili con gli ulteriori progressi che la tecnologia consentirà nei prossimi anni. La tecnoedilizia X-DOMUS riassume i grandi passi fatti rispetto all'edilizia tradizionale. Concetti di ottimizzazione progettuale, prefabricazione industriale, modularità, ecosostenibilità, efficienza energetica sono iscritti nel DNA di ogni casa X-DOMUS e fra 30 anni saranno ancora validi e attuali.